Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 i rallentamenti causa incidente nel tratto compreso tra Prato Est e l'allacciamento A1 in direzione Firenze, coinvolte due autovetture. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina tratto chiuso per lavori tra Canili e Verghereto in entrambe le direzioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!